Amici trader, buon pomeriggio a tutti, sono Stefano Vessicchio per la consigliata analisi ciclica. Prima di cominciare volevo ricordarvi che per le mie analisi uso il software SACOR Navigator di Eugenio Sartorelli, chiunque volesse testarlo basta che fa sul sito investimentivincente.it si iscrive e riceverà un mese di prova del software. Bene, veniamo a noi, questo è l'Eurostox, io qua ho azzardato un'altra ipotesi e come già avevo detto chi mi segue lo sa le settimane scorse, vedete qua ho messo maggio 2018 dei massimi, per cui ecco prosegue l'ascesa dell'Eurostox e penso che a breve sarà a livello dei precedenti massimi, secondo me avremo questa fase laterale fino ad agosto e poi dovrebbe esserci una correzione, una correzione per ottobre e qua mi fermo perché poi altrimenti si andrebbe più avanti. Queste ovviamente sono probabilità, non sono certezze, le certezze, l'unica certezza in borsa è lo stop loss, che se uno sbaglia gli prende lo stop e là finisce la storia. Queste sono solo ipotesi per cui non è detto che poi avvenga quello ipotizzato. Probabilmente rispetto a ciò che è avvenuto fino adesso, ciclicamente potremmo avere ancora una fase laterale, avere qualche altro massimo e poi per ottobre io suppongo appunto una correzione. Allora vale la stessa cosa per il DAX, il DAX è un pochino più erratico ciclicamente, per cui ecco io suppongo, poi anche delle forme un pochino diverse rispetto all'euro stocks, però è l'euro stocks che comanda sul DAX e comanda sull'Europa, per cui io suppongo ecco ancora una fase di rialzo, poi dovrebbe esserci anche una conclusione ciclica mensile, per cui comunque fino ad ottobre, fino ad ottobre secondo me non ci saranno discese, più che altro trend sarà contenuto entro un certo range. Per quanto riguarda l'SP500 l'ampiezza dei cicli è diversa rispetto all'Europa, io infatti avevo preventivato una fase di rialzo per quanto riguarda maggio cessata, però inferiore ai massimi precedenti e quello che appunto sui tempi io qua non posso supporre è l'ampiezza del ciclo, per cui se nei tempi c'è che per maggio avevo ipotizzato una fase long, però non è detto che come ampiezza potrebbe essere per quanto riguarda i massimi precedenti, quindi l'analisi ciclica effettua solo i tempi, principalmente i tempi e poi con l'analisi tecnica andremo a vedere anche l'ampiezza dei prezzi, per cui per me come tempi ci siamo che siamo in maggio e quindi l'SP500 sta in una fase long anche se in un range più ristretto. Allora stessa cosa per il Nasdaq, questo è un ciclo a 4 anni, stessa cosa per il Nasdaq, il Nasdaq però rispetto all'SP500 sembra avere più forza. Allora per quanto riguarda il Bund, se vi ricordate l'altra settimana avevo detto che mi aspettavo una chiusura settimanale, infatti c'è stata su questo minimo, qua l'ho disegnato così, altrimenti non si vedeva il numero. Questi, se andate a vedere il video dell'altra volta, già l'altra settimana c'erano, quindi ecco se si fa questo lavoro, anzi facciamo così. Questa è la funzione del SAI con l'amichietto, così vedete anche come funziona, perfetto. Qua si è chiuso un settimanale, poi qui questo praticamente ha fatto un 3 tempi, poi sarebbe lungo di lungarmi, comunque ha chiuso il settimanale. Quindi io adesso mi aspetto probabilmente qualche altro massimo, perché se questo è un mensile, è un mensile, se non viola questa trend line, io lo considero a rialzo. Vedete? Se mi fa di questo invece la sfonda, ritesta il livello e poi riscende, allora vuol dire che questo mensile si è messo a ribasso, perché io mi aspetto nuovi massimi e poi dovrebbe cominciare la debolezza, perché comunque andrebbe a chiudersi anche un ciclo mensile. Andiamo a vedere l'euro dollaro. Probabile ripartenza ciclica dell'euro dollaro, io infatti tempo fa dissi che secondo me mancava ancora un pezzettino per la chiusura ciclica, in effetti c'è stata. Vedete? Ha fatto un ciclo da 100 giorni, 90-100 giorni. Io questa qui me la sono persa perché purtroppo ho avuto qualche problemino con famiglia e infatti ho postato pure poco negli ultimi giorni. Adesso vediamo un attimino insomma di rifarci. Vedete? Io qua adesso mi aspetto, non ho ripresa delle quotazioni. Io chi mi segue sa che io qua mi sono messo long sull'euro dollaro, nonostante tutti pronostichiavano crolli, più chi più ne ha più ne metta, sia io e anche ho visto Pietro Pacello, eravamo per una visione long. Poi che io ho cominciato a mettere l'ordine long, è un altro discorso. Io mano a mano lo abbassavo l'ordine d'acquisto e adesso me l'ha preso e secondo me parte. Quello d'altronde non è che io ho la sfera magica, io posso ipotizzare un livello, ma non è che c'è la sfera magica e cerco di andare a presa al mercato. È quello che faccio. E dunque una piccola nota, l'altra settimana siccome ho accennato che c'è stato un rubone, un copione che mi ha ricopiato i grafici, qualcuno mi ha scritto e mi ha chiesto chi è e chi non è. Io non è che dico chi è perché no. Non lo posso fare. Una persona che io conobbi anche di persona qua dove vivo a Roma e che io ho avuto dei contatti anni fa, poi gli passai pure dei manuali sui chic, eccetera eccetera. Questo è sparito, poi poco ha fatto e adesso dopo sverati anni vedo che insomma fa dei web, insomma è diventato un personaggio. io così mi sono riscritto al suo gruppo, io ho ridato l'amicizio perché avevo ad orta e puntualmente mi ha ricominciato a ricoprire un'altra orta. Perché lui a suo tempo, con lui avevamo, mi aveva detto che ci saremmo messi anche una sala trading insieme visto che anche lui è di Roma, per cui insomma avevamo dei progetti, poi ha preso e è sparito e ho visto che questi progetti li ha messi in atto con altre persone. Per cui io suppongo, poi l'ho ricontattato ultimamente, mi ha richiesto scusa un'altra volta, però è risparito. Come uno può girare da un cazzotto e poi ti chiedere scusa. Poi ti chiedere un altro cazzotto e poi ti chiedere scusa. Che mo chiede a fare scusa? Eh, è inutile che mo chiedi. Per cui questo furbone, poi io che feci a suo tempo, gli passai tutti quanti i manuali che io avevo sui cicli del Migliorino, dei Torreggiani e lui ci si è fatti i cavoli suoi, fa analisi cicliche, poi ma anche buono, tra virgolette. E niente, fa dei grafici, ha fatto dei grafici certamente tipo questo qua. Io uso anche i partner armonici perché io ho fatto il corso con Giancarlo della pietà di Teletrade. Io le fonti le nomino sempre, io per esempio metto lo studio Pacello che è il Ciceco come usa lui, lo studio Tartarughe che è il super trend con la regressione lineare. A me non piace prendere cose dagli altri e non dire da dove ho preso la fonte, invece qua pare che tanti fanno così. Una è stata Rubona, c'è stato l'episodio di Rubona, una donna che io con Ubi, che questa si è fatta solo che i cavoli suoi, che aveva fatto pure il video, io ho pure risposto. E questo è un attimo, ancora ci sono nel gruppo suo perché voglio vedere quello che fa. E lui, io avevo fatto ecco questa, avevo fatto appunto questa Beresh Bart, questo parte armonico con lo studio Pacello Ciclico, dopo qualche giorno te vedo che lui fa un'analisi proprio sputata a questo, ma con i stessi colori che ho messo io qua su The Trading View, col parte armonimo dell'altra cosa. Poi ha fatto un'altra analisi sui cicli, lui dopo qualche giorno l'ha fatto su un altro sottostante. E' bello, ma che devi fare? Ma fammi un po' capire. E mo che fai? Poi sei risparito, mo che fai? Quando ti presenti mi richiedi scusa e poi mi ricopi le cose. E poi vai a fare i corsi a Milano, fai gli incontri con l'artitrader e a me mi hai scaricato così. Ma come facciamo dei progetti insieme? Ma fammi capire. Quindi ecco, io non è che voglio essere polemico perché poi non mi piace essere polemico. Però insomma, di fronte a queste evidenze sinceramente. E vedo che questo mi ha richiesto scusa e poi mi ricomincio a coprire un'altra volta le cose. Ma basta. Ma ti so abbassare tutti i manuali che ti ho passato e che c'hai gratis e che vedo che c'hai i grafici qua, analisi cicli, quelle cose che ha studiato là sopra, che mancava, capite voi? E andiamo su. Va bene. Allora detto questo, un saluto a tutti, buon fine settimana e buon trading per la prossima.